Buongiorno e benvenuti a questa puntata speciale di Tecnoculture, speciale perché in italiano è speciale come l'ospite Federico Faggin, nostro illustre connazionale che ho avuto la fortuna e il piacere di incontrare nella sua casa nei dintorni di Palo Alto, nella Silicon Valley in California, pochi giorni prima dello scoppio della pandemia del Covid-19. Federico Faggin è un fisico, un inventore, un imprenditore di successo, originario di Vicenza, formatosi a Padova e noto per alcuni dei suoi importanti risultati professionali di cui lui stesso racconta nel libro Silicio, uscito nel 2019 per Mondadori. In questo libro Faggin ripercorre alcune delle tappe fondamentali della sua carriera, dall'invenzione del microprocessore al touchscreen, ma nell'ultima parte di questo libro e in quella che lui chiama la sua quarta vita, Faggin ci racconta di quello che il suo principale interesse oggi, ovvero lo studio scientifico della consapevolezza. Quella che segue è la registrazione della nostra intervista e nell'augurarvi buon ascolto, do la parola a Federico Faggin, al quale ho chiesto come prima domanda se la parola consapevolezza lo soddisfi. O meglio, spesso si sentono utilizzare anche i termini inglesi di consciousness o awareness e quindi ho voluto chiedere a Federico Faggin se il termine italiano consapevolezza esprima in maniera fedele il suo pensiero, il suo messaggio. Non del tutto, perché in inglese ci sono tre parole, c'è conscience, consciousness e awareness e in Italia esiste solo coscienza e consapevolezza. In realtà la parola consciousness ha più sovrapposizione di significato con la parola consapevolezza che non con la parola coscienza, perché la parola coscienza è soprattutto applicabile agli uomini. Un gatto non fa un esame di coscienza. Siccome la prima volta che lei ha messo a fuoco questi concetti è stato attraverso un'esperienza preverbale, spirituale, direbbe quasi che ci manca il termine per definire esattamente quello di cui sta parlando lei oppure va bene? No, io direi che la consapevolezza è la parola più adatta a esprimere quello che la parola consciousness inglese vuole, può e quindi userò consapevolezza e se c'è un punto in cui coscienza è migliore userò la parola coscienza, quindi userò l'una o l'altra a seconda di quello che voglio dire. La coscienza di una esperienza profonda spirituale che in questo caso è appropriata la parola coscienza perché è una cosa puramente umana, è una proprietà che non esiste nel mondo delle macchine, non esiste nemmeno nelle equazioni della fisica, quindi è una proprietà che non è studiata dalla scienza, dalle scienze hard sciences tipo fisica, chimica eccetera, perché la natura della realtà si suppone che sia puramente materiale e quindi la coscienza, se uno parte da questi presupposti, deve essere spiegata come un fenomeno emergente di una struttura materiale che non ha coscienza e questo era il presupposto con cui sono partito anch'io e su questo presupposto mi sono chiesto ma allora dovrei riuscire a fare un computer consapevole e più ci pensavo e più impossibile la cosa era e di fatto nessuno è riuscito, questo parlo di 33-34 anni fa e di fatto nessuno è mai riuscito a fare un computer consapevole oggi, benché i computer siano di 7-8 ordini di grandezza più potenti oggi, di quanti lo erano 35 anni fa e perché sono due cose completamente diverse, il computer è una macchina e noi non siamo una macchina, siamo anche una macchina ma non siamo soltanto una macchina, noi siamo strutture quantistiche, i sistemi viventi, li chiamo organismi viventi per distinguere dei sistemi che sono una parola più meccanicistica, gli organismi viventi hanno un core, un nucleo quantistico e poi hanno anche aspetti diciamo non quantistici nella loro struttura ma un nucleo quantistico che è il nucleo con cui la coscienza può comunicare con la natura fisica della realtà, quindi abbiamo una realtà, cioè come noi quando noi giochiamo un gioco, una virtual reality, una realtà virtuale, noi operiamo un avatar che è nella macchina, che è una struttura del computer ma noi non siamo dentro la macchina, noi siamo fuori della realtà però abbiamo un collegamento tra la nostra coscienza, il nostro corpo cosciente e quell'oggetto che è una struttura puramente informatica nel computer che noi controlliamo. È una cosa un po' simile anche qui con la realtà della coscienza che è una realtà a livello quantistico, va bene, ma a livello della fisica classica in cui noi ci muoviamo e ci comportiamo, noi siamo delle strutture come in un computer e quindi il corpo ha un nucleo quantistico con cui può comunicare con una realtà della coscienza e l'aspetto invece classico della macchina con cui si comporta nel mondo fisico di ogni giorno. quindi parliamo di una realtà completamente diversa dal computer che è puramente una meccanica classica, il computer è solo la struttura riduzionistica meccanica fatta con i pezzi di materia diciamo classica con cui si fanno queste cose. Preparandomi a questa intervista ho ascoltato molte interviste precedenti e mi sembra che raramente o mai lei abbia avuto l'occasione di definire Consciousness Unit che è qualcosa che lei ha definito C.U. Consciousness Unit ha a che fare con in effetti il fatto che noi non siamo oggetti nell'ontologia della meccanica quantistica, anche noi siamo degli stati. Siamo dei campi, siamo dei campi. Ma noi siamo una Consciousness Unit? Noi siamo un insieme di Consciousness Unit che hanno creato un'entità, cioè le Consciousness Unit si combinano come l'aspetto simbolico della realtà, si combina nelle particelle, si combinano negli atomi, gli atomi, nelle molecole, nelle molecole, nelle macromolecole e così via. A livello dei sé, a livello di queste entità coscienti, queste anch'esse si combinano e creano una gerarchia di entità coscienti. Noi siamo a un livello molto più alto della gerarchia che le unità di coscienza, le unità di consapevolezza, le C.U. Consciousness Unit. Quindi noi siamo combinazioni di queste C.U. combinazioni di combinazioni di combinazioni, a un livello gerarchico molto alto. Poiché noi siamo in qualche modo composti di parti che sono consapevoli a un loro livello, eppure poi anche noi, io come corpo, siamo anche un'unità superiore, con una propria identità, con dell'agency. Sì, con il libero arbitrio, certo. E se non sbaglio, l'ho anche sentito dire che chi ha detto che la gerarchia termina con noi. Certo. Ci possono essere, viene da dire cose più grandi di noi. Assolutamente, io sono convinto, naturalmente bisognerà provarlo, ma sono convinto che io faccio parte, come tutti noi peraltro, facciamo parte di un'entità più vasta di noi, e questa a sua volta fa parte di un'entità ancora più vasta, no? Cioè la catena di gerarchie continua. Il fatto che noi non abbiamo ancora conosciuto chi è questa entità più vasta di cui siamo parte, non vuol dire che non esiste. Quindi, di fatto, se io mi chiedo da dove mi vengono le intuizioni, da dove mi viene la comprensione più profonda delle mie esperienze, i sogni e così via, va bene, molti di queste cose vengono dall'alto al basso, cioè da un'entità più vasta di cui sono una parte che comunica con me, quelle sono comunicazioni, quella che è un insight, un veder dentro le cose, una comprensione nuova, è molto probabilmente una comunicazione dall'entità più vasta che io sono, di cui sono parte, a me. Lei cita molto la fisica quantistica. Qual è l'elemento nuovo che lei porta quando vada, diciamo, uno scienziato da cui lei si sente liquidato, oppure la comunità in generale, insomma, qual è l'elemento di novità, nonostante tutto il linguaggio scientifico che le porta che viene rigettato? L'elemento di novità è che io dico, guardate, che i campi quantistici, che sono l'aspetto ontologico della fisica, perché le particelle non sono oggetti, non sono ontologia, le particelle sono stati dei campi e quindi la vera ontologia risiede nei campi. Ecco, io dico, i campi, va bene, sono studiati soltanto visti da fuori, ma i campi da dentro sono come un sé cosciente che ha il suo libero arbitrio e che quello che noi pensiamo come interazione in realtà è una comunicazione libera che questi campi hanno con altri campi. Quindi parliamo di entità coscienti, i campi sono entità coscienti che interagiscono tra di loro, che comunichano tra di loro e attraverso queste comunicazioni creano strutture gerarchiche di simboli, ma creano anche strutture gerarchiche di sé, di cui noi siamo un esempio di qualsiasi animale, una cellula vivente, sono esempi di queste strutture gerarchiche di sé creati dalla comunicazione di questi campi. Quindi la fisica vede la realtà soltanto dal punto di vista da fuori, invece deve essere vista sia da dentro che da fuori. L'aspetto simbolico è quello di fuori, l'aspetto informatico simbolico, l'aspetto semantico di significato, di comprensione è quello visto da dentro. Il campo conosce se stesso dentro di sé e conosce il mondo attraverso l'osservazione del mondo come fuori di sé, non sé, ma però essendo in sorva posizione il campo percepisce il resto del mondo come se stesso con il suo punto di vista, che è esattamente l'esperienza straordinaria di coscienza che ho avuto io all'inizio, in cui ho sperimentato il mondo come me stesso, però visto con il mio punto di vista. Quindi ho preso, come dire, l'intuizione che mi è venuta dall'esperienza, non da un pensiero, non da un'idea intellettuale, ma da un'esperienza, ho preso questo spunto e l'ho trasporto in quello che so della teoria dei campi, per trovare una unione tra il mondo interiore e il mondo interiore, che poi è l'unione tra la scienza e la spiritualità, che nessuno si è mai occupato di farlo, molti ne hanno parlato, hanno magari anche scritto un libro, però nessuno si è dato da fare veramente a portare insieme una comprensione, come dire, coerente di come funziona una realtà dove c'è, dove ci sono queste due facce. E lei sta incontrando una certa resistenza, una difficoltà, c'è il criticismo, qual è la difficoltà insomma nel... Beh, questo diciamo, la tipica reazione di un fisico è ma tu vuoi fare filosofia, oppure ma che cosa dici? Quindi negherebbe un fisico, ma è sempre questo un fisico che li rappresenta a tutti, forse è un po' ingiusto, però insomma un fisico negherebbe che la coscienza ad esempio è parte dell'universo, la fisica dovrebbe studiare tutto ciò che fa parte e quindi la fisica è incompleta senza la consapevolezza, lo negherebbe? No, la fisica semplicemente dà una spiegazione che è una pseudo spiegazione dicendo che ovviamente la consapevolezza è nel cervello, deve essere basata sul cervello perché chiaramente se io ti faccio fuori tu non esisti più, la tua coscienza non esiste più, va bene? E quindi è una proprietà del cervello ed è una proprietà emergente quindi di un sistema informatico, va bene? Ma chi è che ha detto che la coscienza è nel cervello? Se tu ammazzi un avatar in un computer che è controllato da me, l'avatar muore, ma io sono ancora fuori dal computer e vivo ancora. Cioè la realtà non è così banale o così semplice come appare, va bene? E il fatto che ci sia un mondo quantistico e un mondo fisico e che la connessione tra i due attraverso il collapso di wave function già dice che c'è qualcosa che non è comprensibile, di fatto questa realtà quantistico classica non è capita oggi. Cioè si prende atto che è così, però non è capita fino a fondo. Io dico la realtà della coscienza è nella realtà quantistica, la realtà del corpo, del corpo diciamo che interagisce nel mondo fisico è la fisica classica, però il nostro corpo ha un nucleo quantistico che va dalle cellule al sistema intero che permette al mio corpo di essere controllato da un'entità cosciente che non è in questa realtà fisica, però è connessa in questa realtà fisica. Esattamente come io controllo in un computer, controllo un avatar da fuori del computer e ho l'esperienza del cosiddetto avatar, l'avatar non ha nessuna esperienza, ce l'ho io l'esperienza del mondo dell'avatar, che è la realtà virtuale creata dal computer, io ho l'esperienza, ma quell'esperienza esiste fuori del computer, non esiste nel computer. La realtà fisica è un po' come una realtà virtuale, funziona come una realtà virtuale, ma in realtà l'obiettivo di questa realtà virtuale che è il mondo fisico in questo modello è quello di essere una specie di laboratorio per queste entità, queste gerarchie di entità che hanno creato questa realtà fisica, per conoscere se stesse attraverso la loro interazione in questa realtà che è molto limitata ed è molto più circoscritta che non la realtà più libera del mondo quantistico, dove la vera coscienza esiste. Per liberare il campo da possibili equivoci, lei raramente, anzi mai, se non qualcuno glielo chiede, usa la parola Dio, perché non c'entra o perché non sappiamo come c'entra? Io uso la parola uno come la totalità di ciò che potenzialmente esiste e attualmente esiste, cioè un'esistenza potenziale che è quella che non si è ancora manifestata e un'esistenza attuale che è quella che si è manifestata. La totalità di tutto questo lo chiamo uno, questo potrebbe essere Dio, ma io lo chiamo uno perché non voglio dare nessuna, come dire, nessuna accezione religiosa alla cosa, non voglio creare un sistema dogmatico, però c'è una totalità, ci deve essere una totalità, e la totalità, a meno che uno parta in partenza con l'idea che tutta la realtà già esiste, che in fisica per esempio c'è, sono molti fisici che pensano che sia così, si chiama il block universe, cioè tutta la realtà già esiste in quattro dimensioni, tre spaziali e una temporale, e l'esperienza del tempo, l'esperienza di muoversi nello spazio e nel tempo, è una cosa puramente dell'osservatore, non ha niente a che fare con la realtà, perché la realtà è già tutta là, esiste già tutta dall'inizio. Io non accetto questa visione, è una visione che una certa percentuale di fisici considerano la visione corretta della realtà, io invece vedo la realtà come un continuo divenire, come un continuo crescere di conoscenza di sé, che non finirà mai, quindi un movimento dal potenziale all'attuale, dove c'è un'espansione continua della conoscenza di sé, che poi questa espansione della conoscenza di sé potrebbe avere un correlato nell'espansione dell'universo, nello spazio dell'universo, che peraltro non sappiamo cosa sia lo spazio, anche come fisici, nello spazio, nel tempo, quindi mi fermo lì. Nel 2011 lei ha fondato la fondazione Federico e il Diafaggin per supportare lo studio scientifico della consapevolezza tramite borse o contratti di ricerca nelle università statunitensi e organizzazioni non profit. La fondazione si chiama Federico e Elvia, avete anche vissuto una lunga vita insieme e in questa vita lei ha avuto queste epifanie, questi cambiamenti, vuole dire una parola sul ruolo di sua moglie in tutto questo percorso? Beh, ovviamente la compagna della mia vita ha un ruolo fondamentale, ma Elvia si è anche prodigata molto nel portare alla luce i miei contributi anche tecnologici che erano stati un po' sotto, come dire, nascosti, in particolare dall'Intel, perché avevo fondato la Zilog, una ditta che competeva con loro e poi faceva comodo poterlo fare e quindi lei si è prodigata ed è riuscita ad avere anche un notevole successo in questo perché ha impedito che questa cosa prendesse radice nel mondo, questa falsa informazione, perché poi i documenti esistono, quindi era una forma di public relation che nascondeva un po' le cose, ma in realtà le cose erano evidenti perché i documenti parlano chiaro. Quindi questo è stato un lavoro che lei ha fatto per molti anni e mi ha certo aiutato perché io non avevo né tempo né voglia a quel tempo di difendermi perché per fare queste cose qua può essere l'interessato che cerca di difendersi e allora tutti quanti puntano il dito, ma vedi, guarda, che credevi essere quello lì e così via, quindi occorreva qualcun altro che mi desse una mano ed è vero, ha fatto con grande capacità e anche con molto coraggio. Lei è stato, io direi, un grande innovatore, inventore e ha avuto l'esperienza di essere un imprenditore di successo e per sua stessa missione dovendo imparare delle lezioni su come affrontare le leggi del mercato nel distribuire nuova tecnologia. Le volevo chiedere che idea di progresso sia fatto alla luce di queste esperienze poiché in una visione secondo me un po' ingenua del pubblico generico, in cui mi metto dentro anch'io, noi riceviamo sempre l'ultima invenzione tecnologica, la migliore e il progresso procede a un suo certo passo, però procede e noi siamo sempre lì, sul forefront, davanti, ma invece lei sa che hai l'invenzione ma c'è il momento giusto per mettere al suo mercato oppure non funziona, è una buona idea perché il momento era sbagliato, quindi che idea di progresso sia fatto alla luce del fatto che ci sono altre leggi che interferiscono in questo ideale Sì, bisogna vederlo da dentro, quando uno lo vede da fuori leggendo i giornali o quello che la gente dice e così via, ha una visione molto sfalsata della realtà. Vedendolo da dentro uno vede che in realtà su dieci idee che magari sembrano buone, solo tre o quattro sono quelle che ce la fanno e le altre per varie ragioni o non sono fattibili o costano troppo o non sono così buone come si pensava, non ce la fanno, quindi bisogna vedere le cose in maniera diversa che non come le vede riflessa dalla stampa, perché la stampa non fa altro che tipicamente vedere i luccichini e riporta quello che brilla di più, no? Ma la realtà vissuta è molto diversa. Poi anche l'imprenditore deve dimostrare non solo la capacità tecnologica ma anche il coraggio proprio di rompere con certi schemi, no? Il coraggio e la capacità di tenere duro quando l'andare è difficile perché mai rimancano i soldi o la risposta del mercato è un po' più perché veramente il lavoro dell'imprenditore mette in gioco tutti gli aspetti umani della persona, non solo l'aspetto intellettuale ma anche l'aspetto del coraggio, della pancia e anche l'aspetto del cuore e l'aspetto del cuore si manifesta in come uno tratta gli impiegati, in come uno si comporta a livello proprio di creare questa struttura di persone che deve portare un nuovo contributo nel mondo. Quindi per me non per caso devo dire che queste nuove intuizioni che ho avuto e questi pensieri che ho sono venuti dopo aver fatto parecchi anni di imprenditore e quindi avendo sviluppato e avendo integrato questi aspetti di me stesso invece di vivere solo nella mia testa, vivere nel cuore e nella pancia insieme alla testa e queste cose tipicamente uno che vive all'università per dire tende a non avere la possibilità di farle perché vive tipicamente nel mondo intellettuale e solo in quel mondo, invece uno deve quando crea una ditta deve vivere simultaneamente integrare aspetti umani che non tutti hanno avuto l'opportunità di fare. Sicuramente tra i nostri ascoltatori ci sono molti colleghi amici in Italia, ricercatori e docenti. Lei si è formato in Italia. Sì. C'è qualcosa nella sua formazione che secondo lei l'ha preparata a essere innovatore? Nella formazione no, nella formazione no, direi che era almeno per il 90% della mia natura perché io da ragazzino il mio amore per gli aeromodelli per esempio e quindi la voglia di imparare a farli ma siccome non avevo i soldi io solo ho potuto comprarmi un libro che ho dovuto imparare da solo però con il libro e tutte queste cose qua che ho fatto da ragazzino da 11 anni, 12 anni in su, ero dei miei compagni di scuola, ero uno dei pochi non è una proprietà emergente, veniva con il package. E c'è qualche elemento nella formazione dei giovani oggi che lei vedrebbe come desiderabile per aiutarli a essere se non innovatori, problem solvers creativi e anche forse con un po' di cuore insomma come vede lei una formazione desiderabile? La formazione desiderabile che io non ho avuto così in Italia, che qui c'è di più, è di lavorare in team di lavorare in gruppo, di avere progetti comuni, di lavorare insieme e allora quello porta già dall'inizio la capacità di integrare, di dare avere, di esercitare leadership in maniera bella, imparare a fare queste cose bene. Non si insegnavano queste cose quando sono andato a scuola io e le ho dovute imparare soprattutto lavorando però avevo una capacità naturale di leadership perché già quando avevo 18-19 anni che ho lavorato per l'Olivetti io avevo quattro tecnici che lavoravano per me e ho costruito e progettato per il 60% un piccolo calcolatore elettronico a 18-19 anni, 19 anni e quindi questa leadership era parte anche della mia capacità però anche lì bisognava svilupparla, bisognava lavorarci e l'ho sviluppata soprattutto nella carriera imprenditoriale perché lì poi c'era molta diversità. Finché dirigevo un progetto tecnologico era una cosa ma quando uno dirige una ditta deve dirigere tante attività completamente diverse le vendite, il marketing, l'amministrazione, la finanza, la ricerca e sviluppo, la produzione, il personale e così via e capire come funziona il mondo, capire come integrarsi nel mondo, come creare i rapporti con altri centri di interesse e così via queste cose qua uno le deve imparare vivendole, lavorandoci in questo modo quindi questa è tutta una grande scuola per me ed è stata appunto questa scuola che poi mi ha portato a fare il salto il salto in più se vogliamo che è il salto che ho fatto con questa esperienza del risveglio raccontata nel libro Silicio che mi ha portato a studiare la natura della consapevolezza, della coscienza e adesso è la mia occupazione fondamentale la ringrazio tantissimo per il suo tempo e per avermi ricevuta oggi qui nella Silicon Valley grazie